si sono chiamati in questo video di gt5 online insieme a carmini lusette ti accontro di noi nel parkurito con le auto mamma con su quel parkur con le auto che ti ho detto io l'ho guardato dal social club ora proprio in questo momento no prima l'ho preso il social club e ci ho scaricato un bel po' di attività dal social club ma perchè scendono donna e che sono ad un bobo ma che vuole questo chi vuole salire da noi su questo perchè lì è più facile dai mi sono messo il completo del mio canale carmi metti il completo il mio canale che te ce l'hai si un attimo ma questo qua il mio eh metti il mio e poi te lo rimetti aspetta io ho paura io ho paura perchè scusse mi sta quasi velocità questo parkur è facile sembra facile sembra anche corto però è lunghissimo oh no son caduto ma vedete mentre sei caduto io sto picchiando sono morto sto picchiando non ero io 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 se non ti vengo lì io ti picchio ecco qua fammi vedere fammi vedere fammi vedere ecco qua come si chiama titanio titanio ok si ha piccato uno della tua squadra ok ok l'ho votato i spelli io salgo sopra faccio qualcuno fammi un fammi l'isteria prima ok valla fai fermo vai aspetta bravo di più l3 r3 devi prenderlo molto di più fra un po' deve andarsene il titanio io poi no no è quello lì che abbiamo votato i spelli però strano lui ha una connessione per il giallo ma perché non sa io arrivo questo qua non sa ne sale più eh perchè devo andare in fuori io bravo tanto abbiamo vetti i 7 minuti a farlo c'è qualcuno c'è qualcuno che è avanti camillo si è suicidato ah ma siamo siamo contro è vero no camilla è mio compagno ah mh tanti è uscito camillo con rosso con nome rosso camillo eh con nome rosso ehm si eh è contro se mi suicido io ti dice rosso matrimonio 4 3 6 6 no poi siamo cambiati praticamente due compagni sono passando dalla parte mia nooo non lo sapevo c'era il buco davanti c'era il buco c'era il buco c'era il buco c'era il buco è meglio dire troll pierso 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 va mosso la al pierso al psg il buco ecco no qua c'è lì metto il problema cazzo fatto oh prendiamo già il posto quando non mi uccide vogliarmi no 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 noi non ci uccidiamo ti uccidiamo ti uccidi miei compagni io uccidi tuoi io uccidi tuoi cioè io uccido i miei no no te non puoi uccidere i tuoi compagni io uccidere i tuoi compagni però io trollo con lanciarazzi ah si allora lo faccio anch'io oh fai una cosa che uccidi tuoi i miei carmine lo stesso ci ritrolliamo male bravo carmine è difficile perchè non metto la furtiva se non l'accabo io non metto la furtiva quindi se non l'accabo e questo cado io sono caduto non metto la furtiva però se arriva dalle armi no è lontanissima dalle armi cosa fortuna è che il creatore a me sono andata a poter risalire con le auto ma torna dove stanno stagliando le armi eeeh sono in alto bella defipa poi non è un parkour con le con le auto il parkour è normale però con le e poi ci sono due con le auto vai per le armi eh ovviamente no non è che il parkour è con le auto c'è un parkour piedi parkour auto parkour piedi parkour bici poi parkour mani oh uno della mia squadra camillo ce l'ha fatta grande camillo ci stanno pure le dici quindi beh credo di sì ma come cazzo ci fa quel punto dove fare le le macchine cosa centralmente eh devi fare l'equilibrio quella del z no l'equilibrio l'ho fatto devo andare in centrale che devi saltare coi pannelli quelli la rosa e grigi che me ne ricordo oh quelli la dopo aver fatto l'equilibrio eh devi saltare dopo l'ultimo devi fare l'equilibrio eh no no dico i secondi i secondi pannelli madonna on�oh parkour di merda oh ti ho capito come devo fare dopo killa camillare l'equilibrio guardia come citta con carobo il carboosting con il carboosting per andare più veloce con l'auto poi una brutta notizia nel nuovo che uscirà il traffico armi 3 o 4 toglieranno il carboosting il carboosting sarebbe che fai adesso a destra si, quello lì che vai più veloce col marciapiede col marciapiede ma perché c'è il sapore quello la che tipo nella strada fai destra sinistra tipo zig zag come se facessi con le pistolette che salvi la salita compa no no io lo chiamo compa da adesso quello lì come si chiama camillo lo chiamo compa da adesso ciao compa come compa compa come butta compa ho un amico che si chiama di cognome compa di nome fa compare compare compa com com una persona interna c'è una persona non può non può avere un nome compare eh però non è italiano se non è italiano può ma che cazzo c'entra se non è italiano può infatti è russo i russi possono ma poi c'è tipo un warride ma tua madre è una brutta donna in carriola devi dire cosa devi dire tua madre è in carriola no 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 ma di seguito non si dice in carriola no da me nelle mie parti in carriola è da me in carriola perché è carriola che senso al calore sarebbe incinta non è non è che il calore sarebbe incinta si lo so cosa significa vabbè hai capito vai dillo se lo sai dillo no vabbè non è che mi ricordo proprio tanto vabbè dai c'ha il mestro diciamo che? il mestro non ho capito un cazzo il mestro non ci ho capito un cazzo ma sai cos'è il mestro? ah il mestro io ho capito un'altra cosa cosa hai capito il mestolo? si carmì vieni secondo qua vieni secondo uno la macchata baseball sei muoio devo colpire il tuo amico madonna ma sai cos'è che io ho? lavagna è bella questa oh stai fermo stai fermo stai fermo se cadi togliti dall'auto perchè ti suicidi ti suicidi e fai prima spawn o no ok ok quindi si va così non mi ucciderà? io sono ancora allo spawn ah mi devo servire delle armi tu metto guarda stai fermo stai fermo quindi intendo stai fermo con l'auto che io vengo devo farti dire una cosa vota com'era vedere no no dai no ho un bug c'è un bug che dura un minuto non mi interessa io sono arrivato in una macchina non lo faccio vabbè io ho tutte le armi dimmi no no però le poveri ho il bug delle armi cosa? ho tutte le armi beh sti cazzi tanto io me le vado a prendere cazzo ridi allora spiegher ma se sei gruppo qua ma sono caduto ma cosa hai preso? la Wagner ci sono solo un'altra Wagner no c'è anche l'attiventi non è vero si che è si si ah sinistra ci sono attiventi sinistra e destra ma io posso risalire con le macchine si che bello mi c'è il parkour della vita è bellissimo allora lo so non è mi piace uso la Wagner comunque e anch'io i semagli attiventi stavano a sinistra si ciao buongiorno buongiorno andiamo dai no fammi vedere le armi spara no 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 guarda hello vabbè sali sali vieni vieni con me ma come cazzo fai a togliermi la macchina no perchè siamo contro eh ma come fai appena sali se la toglie appena sali se la toglie si vai ok va bene no no non mi toccare qua è facile poi guarda questo car boosting guarda questo car boosting secondo me non faccio car boosting intanto alla fine alla fine arriva lo stesso hello oh oh è questa parte qua che trolla che sembra che vai dritto invece stai cadendo non fatti io ce la non sto per fare io sono fatta no no io sono caduto è facile tanto alla fine eh ma è meglio trolla l'ultimo ferma ora adesso non mi ha trovato si erano fatta io accordo pienso che sei radio stop la la come si esplodeva in questo momento io ci vuoto si esplode dici così si uccide sempre lo so se prendo le armi abbiamo detto avevamo detto che non ci uccidiamo che mi sono io abbandono perché sono dei misili per terra ma ci sta qualcuno qua è blu o rosso? bastardo rosso l'ho ucciso vuole che parte era? quella della wallride aspetti voglio vedere sarà rimasto malissimo lui oddio oddio camille due giocatori hanno votato spelli a te hanno votato spelli a camillo e pierzo solamente perchè l'ho ucciso eh bravigio abbiamo votato spelli a camillo 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 se si è scoperto e si è scoperto e si è scoperto e si è scoperto con un'altra parte 20 e si è scoperto ma è la fede si è scoperto si è scoperto la sua diventi si è scoperto la fede è difficile per questo parkour chi cazzo oh io sono alla scelta io sono caduto dal uomo la rai di che cazzo vabbè io mi uccido così sono all'inizio vedi faccio un pochino le chile con la ascia sei tu quello? no aspetta dom sto venendo io sei tu no non sei tu aspetta dom io sono faccia dei saltiellini io che la questo lo lascio vieni qua tutto bambina ma chi stai picchiando a camillo ancora? ah no no l'altro quello che lagga ma no no guarda quanto lagga ma sei allo spuono devi morire malissimo sei allo spuono sei allo spuono quanto cazzo lagga ma sei allo spuono si mi sono suicidato perchè? camille è pure fk dai non ucciderci in fk dai sono noi e da no di uccider quelli in fk si ma questo qua lagga troppo ma infatti c'è la mia vecchia Wagner qua ma questo lagga tantissimo guarda qua le hit chi è io? io non ci ti colpisco no le hit sarebbe quando le hit sarebbero i colpi ah io ho capito il film io ho capito il film io ho capito il film io ho fatto il warrider ok il minnello ho ucciso ho preso i 100 dollari perchè ucciso a camillo oh ma se si arriva alle armi i comitati a killar tutti così a noi arriviamo in vantaggio ops qualcuno è fermato qualcuno è fermato questo lagga troppo vota e spelli non possiamo abbiamo già votato e spelli a uno ops qualcuno è già arrivato con una lagga qualcuno è già arrivato alle armi quanto mi dispiace no 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 non chiedere con la lagga sapote le armi sono io e chiedere un pochino aiutami a killare il tuo compagno io non posso uccidere i miei compagni no dico con la lanciarazzi no no io uccidi i tuoi perchè te mi hanno ucciso prima ok sono agli armi bolla rega sono in serie positiva eh anch'io fa solo sosterone ma sai che io adesso ti uccido perchè ucciso il mio compagnino fk no non ci sono un compagnino fk no ho ucciso un altro che lagga ho ucciso quella che lagga perchè allora prima mi essere iscrivito carmine l'ho ucciso e ho guadagnato 100 dollari con l'hk sono solamente perchè sono solamente che dava 100 dollari perchè stava in attività in inattività ma sai che sto venendo con l'rpg hello si ma abbiamo detto che non ci chiediamo hello hello oh proprio abbiamo detto che non ci chiediamo bastardo lo so lo so lo so grazie hello dove sei ok io sto uccidendo pietro io sto uccidendo pietro stavo avevo la mira su pietro e ma se pietro è pietro carmine l'ho carmine l'ho eh ma lui era avanti davanti davanti dietro dopo te è risceso e aspetta che l'andavo io avanti cioè che me l'andavo questo è un carmi questo è un carmi qua c'è un pietro c'è un pietro c'è un pietro proprio so che posso fare qualcosa una kill una kill ogni minuto me l'hai fatta me no me ne fate già due quindi ogni due minuti no se tu me ne fate già due una ti manco un minuto due ah ok 40 seconde vai no se me che ho fatto 10 kill aspetti a no questo sei sei carmi sei sei sopra l'autobus si aspetti all'otto 9 l'ultima che ho fatto era 9 si ma voi puoi decidere solamente così tra quei pannelli che si che si andano qua non puoi uccidermi chiacca lo decida non è il capo che cazzo lo faccio fare il percorso ogni un minuto mi uccidi eh 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 bello se colore ah no ho messo una mina per sbaglio ops hai preso proprio l'otto dove ho messo la bomba adesiva non è vero si che c'è ma ho fatto provare a farmi splodere vai lo faccio però dopo se lo faccio non chiamare la mamma vai vai aspetta io tanto lascio delle mine qua perche' se qualcuno riviviere vai vai aspetta tu porco tuo porco bippo porco bippo porco bippo da uiccioi mini dai class ma non mi dico che stai mettendo le mine a tutte quante le macchine ecco lo che sto facendo eccolo eccolo ecco basta mi sei incazzato uccido vieni qua ok come ha rovinato ok adesso aspetto aspetto tutti quelli lì che spawnano così li uccido guarda non l'ho fatto più neanche spawnare non l'ho fatto più neanche spawnare dimmi lo sai che ti uccido no sta sculacciando pure pietro ci unisce ciao ecco lascia mi fai un po' paura no alleluia oh pietro 250 taglia sulla tua testa chi mi uccide guadagna 250 mi vuoi uccidere? ma non posso usare no meglio di 100 guarda io sto facendo il delirio oeeh cazza fai guarda non so quante chi le sto facendo guarda lì ci stanno buttando settecento con quattordici non quattordici non quattordici cosa quattordici che palle avrò si lupo non mi sa città mi sa città da qualche modo no e le armi sono in alto ma però per me è città da lupo non si può cittare se si può come si può fai il lupo e poi cerca di prendere il giugiu cerco di prendere il muro scusa ma sto registrando scusa e quanto cazzo dovrò sta registrando? 30 minuti, quanto finisce il parkour? una caduta dalla tua squadra la tua squadra sta perdendo e allora? vabbè mi sa che faccio altri 2 kill e poi finisco il video ma ho perso l'haga cosa pensate? i tuoi compagni l'haga no ok ho l'ultimo obiettivo da fare sapete qual è l'ultimo obiettivo? te lo sai? si cosa? cosa? come cosa? cosa? qual è l'obiettivo? io no trollare i miei compagni guarda guarda se tu guarda davanti a me si tiantro abbandonato dalla mia squadra vai si vai shaglow io non vado tu mi butti giù guarda guarda sto in retromarcia guarda sto in retromarcia guarda vai 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 adesso non puo non so ne in retromarcia cosa vuoi fare? guarda che ti ho visto che ha buttato la muta è la mina cattavitai 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 wow wow no ho finito le mine lasciateli no mccarmi ho finito le mine va bene questa è piaciuta vai iscrivetevi ci vediamo al prossimo video bella ragazza